Grazie a tutti. Numero 1, Appadio Di Rezio. Numero 6, Maloneo Savelio. Numero 0, Appadio Di Luca. Numero 32, Mugliari Di Sacco. Numero 96, Scalini Donato. Ringrazio a Gianluca che ha accompagnato i ragazzi, Rossi Gianluca e Lecce Zagliari. Numero 3, Mugliari Di Rezio. Numero 7, Gini. Numero 3, Scalini Di Sacco. Numero 4, Scalini Di Sacco. Numero 9, Greco. Numero 11, Parigi Di Sacco. Numero 4, Scalini Di Sacco. Numero 5, Scalini Di Sacco. Numero 4, Scalini Di Sacco. Il primo, il capitano, numero cinquata, Valentini Stavano. Almeno che è Alessandro Cantina. Buon appetito, grazie! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.